Albano furioso per la dichiarazione d'amore di Romina, la replica Albano replica alla dichiarazione d'amore di Romina Pouwera Verissimo. Non è tardata ad arrivare la replica di Albano Carrisi alla dichiarazione d'amore dell'ex moglie Romina Pouwera Verissimo. Il cantante di Cellino San Marco non ha apprezzato il gesto dell'americana e ha bollato quanto affermato dalla donna come un gioco, un'lonia che nessuno ha colto. E sì, perché le parole della figlia di Tirone Pouwera hanno fatto il giro del web e acceso le speranze nei fan di Albano e Romina. Ma quella storia è ormai morta e sepolta e a puntualizzare la faccenda ci ha pensato lo stesso pugliese, che ha ribadito la sua fedeltà alla compagna Loredana Lecciso. Che, a sua volta, non ha gradito le affermazioni di Romina. Interpellato da Candida Morvillo per Il Corriere della Sera, Carrisi si è dichiarato stanco del gossip attorno alla sua famiglia. E ha sottolineato ancora una volta che con Romina non può esserci altro che affetto e una collaborazione lavorativa. Albano e Romina, nessun ritorno di fiamma, parla Carrisi. Non è vero che ci amiamo ancora. Io, che la conosco, so che di Romina bisogna saper cogliere l'ironia ha fatto sapere Albano al Corriere. A detta dell'interprete, le dichiarazioni della Power nel salotto di Silvia Toffanin non sono state altro che una burla alla quale tutti hanno ingenuamente creduto. Quello era e sarebbe stato ancora un bell'amore, ma è interrotto da troppi anni. Ora, io e Loredana abbiamo due figli da crescere e un insegnamento da dare, che è la responsabilità di amarci e tenere unita la famiglia ha aggiunto, più che mai fedele alla nuova compagna. Quest'ultima, a quanto pare, non ha gradito le esternazioni di Romina. Ma, almeno per il momento, preferisce mantenere il massimo riservo sulla vicenda. Nessuna replica o ripicca da parte di Loredana che, negli ultimi anni, è diventata parecchio riservata. Sono lontani i tempi in cui l'Alecciso spopolava nei programma tv. Ora la showgirl conduce prettamente una vita familiare. Rispetto al passato, ha dato infatti precedenza alla famiglia, con grande soddisfazione da parte del compagno. Albano e Loredana Leccio, un amore sempre più grande. Abbiamo un impegno da genitori di due ragazzi, di 16 e 14 anni, che mi hanno tirato fuori dall'angoscia di vivere e hanno bisogno della presenza mia e sua. Su questo senso di famiglia io e Loredana siamo identici ha spiegato Albano, che da Loredana ha avuto i piccoli Yasmin e Albano Jr., detto Bido. Dunque tra Albano e Romino non resta che l'affetto, i ricordi del passato e i tre figli ormai grandi Iari, Cristella e Romina Jr., detta Uga. .